Condannato all'ergastolo, anche in appello a Pietro Morreale, il ragazzo che a Caccamo, in provincia di Palermo, avrebbe tramortito e poi bruciata viva la sua fidanzata. I dettagli. Lo scorso 30 ottobre il sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligno, a conclusione della requisitoria, ha invocato la conferma della sentenza emessa dalla Corte d'Assise. Il 12 ottobre del 2022, di condanna all'ergastolo, a carico di Pietro Morreale, 22 anni, di Caccamo, imputato di aver ucciso il 23 gennaio del 2021, la fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni. Adesso la Corte d'Assise d'Appello, preseduta da Angelo Pellino, ha risposto sì. Confermiamo la sentenza di primo grado, condanna all'ergastolo. Lui, Morreale, ha litigato con la sua fidanzata durante una cena con amici, poi l'ha aggredita e tramortita colpendola con un sasso, poi le ha appiccato il fuoco addosso, poi l'ha gettata in un dirupo, poi l'indomani si è recato dai carabinieri e ha raccontato «la mia ragazza dopo una lite si è prima incendiata e poi si è buttata in un burrone». Dopo alcuni giorni i carabinieri, da subito scettici sulle racconto, lo hanno arrestato per omicidio pluriaggravato. Il rapporto tra Morreale e Siragusa sarebbe stato burrascoso. Nel corso del dibattimento in aula sono emersi 33 episodi di violenza commessi da lui nel corso del tempo contro di lei e poi il video di una telecamera di sorveglianza nella zona dell'efferato delitto che è stato proiettato in ansia ai giudici in occasione dell'incidente probatorio ed in cui è stata registrata l'agonia della sventurata che brucia divorata dalle fiambe per almeno 5 minuti. E a poca distanza è posteggiata l'auto di Morreale, nei pressi dello stadio comunale, dove la coppia si è appartata dopo aver litigato e dove sono state trovate anche le chiavi di Roberta. E poi le macchie del suo sangue sono state rinvenute nell'automobile di lui. Pietro Morreale avrebbe assistito a quanto accaduto seduto in auto, poi avrebbe caricato il cadavere sull'automobile e poi lo avrebbe lanciato giù in una scarpata nelle campagne di Cacamò. Lei avrebbe voluto separarsi da lui e lui non si sarebbe rassegnato, tanto che, al culmine dell'ennesimo diverbio, l'ha aggredita col sasso, le ha gettata addosso del liquido infiammabile, conservato in automobile e l'ha arsa viva. Durante la stessa notte i genitori di Roberta gli hanno telefonato. Lui, verosimilmente per crearsi un alibi, ha inviato dei messaggi al telefonino di lei, scrivendole, dove sei, sono preoccupato. Al processo si sono costituiti parte civile e genitori, il fratello e la nonna di Roberta. Il condannato risarcirà la madre della vittima, Iana Brancato, per 225 mila euro, il padre, Filippo Siragusa, per 229 mila euro, il fratello Dario per 209 mila euro e la nonna, Maria Barone, per 117 mila euro. Risarcirà anche il comune di Caccamo, con una provisionale esecutiva di 15 mila euro.